Arrestati in Belgio Mohamed Abrini e altre quattro persone, la procura federale ha confermato la notizia aggiungendo che si continua a indagare per determinare se Abrini, il cui DNA era stato ritrovato in un'auto usata per gli attacchi di Parigi e in due covi a Bruxelles, fosse anche l'uomo col cappello che partecipò all'attentato all'aeroporto di Zaventem. Tra gli arrestati pure Osama Krayem, un cittadino svedese che utilizzava lo pseudonimo Naim Al-Hamed. Il procuratore federale ha spiegato, gli inquirenti stanno verificando se Osama K possa essere identificato come la seconda persona presente durante l'attacco alla stazione della metropolitana di Malbec. Il Belgio mantiene il livello 3 di allerta per la minaccia terroristica. Le operazioni di polizia nel quartiere di Anderlecht della capitale si sono concluse in tarda serata. Sembra essere una svolta nelle indagini sugli attacchi di Bruxelles e pare che il cerchio si stia chiudendo su questa presunta cellula terroristica.